Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale Corsa contro il tempo ad Agnone per scongiurare una crisi idrica domani a Ferragosto, due le autocisterne che hanno rifornito in questione il Comune Alto Molisano, questa sera invece la chiusura anticipata dei rubinetti, il sindaco SAI assicura che la situazione in vista di domani dovrebbe leggermente migliorare, ma sentiamo Davide Gambardella. Stasera una nuova chiusura anticipata della rete idrica per permettere al serbatoio di riempirsi nuovamente e far trascorrere un Ferragosto tranquillo a residenti e turisti ad Agnone, è una corsa contro il tempo ormai per scongiurare una nuova crisi nel Comune Alto Molisano, nei giorni di maggior presenza e dettate anche dal gran numero di visitatori. Un guasto alla rete che ha motivato la chiusura anticipata dei rubinetti, ma la situazione, secondo il sindaco Daniele SAIA, dovrebbe leggermente migliorare in vista di domani. Arriverà quest'ulteriore autobotte, se chiudiamo prima credo che il livello del serbatoio andrà più in alto in accumulo e quindi credo che domani mattina la situazione sarà leggermente migliore. Stamattina intanto un'autocisterna di 30.000 litri ha fatto tirare il fiato agli abitanti messi in ginocchio dalle interruzioni delle scorse ore. A ora di pranzo, previsto un nuovo rifornimento, sperando che durante la notte la cisterna cittadina si riempia ancora. Il primo cittadino di Agnone ci tiene a precisare che sarà garantita l'acqua per 12 ore al giorno e non soltanto per un'ora, come è erroneamente comunicato. L'acqua Agnone è aperta dalle 7 la mattina alle 19 la sera. Quando apriamo la mattina, lo svuotamento, poiché l'accumulo è minimo, lo svuotamento è rapido. Quindi essendo lo svuotamento rapido, le parti che sono più in alto nel paese non riescono ad essere raggiunte per un problema di pressione. Il problema è che l'acqua non si crea all'improvviso. Noi siamo consapevoli di avere una rete idrica fatiscente, che ha delle grosse perdite. Noi quello che possiamo fare, proprio da legge, è intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e sul monitoraggio. Questo lo stiamo facendo in continuo. Sulla programmazione sulle infrastrutture idriche, come ben sapete, c'erano prima gli Ato, adesso c'è le autorità di ambito. E loro sono le autorità preposte a fare programmazione in infrastrutture idriche. Anche perché non è una criticità solo del comune di Agnone, ma è una criticità di tanti piccoli comuni. È chiaro che Agnone fa più scalpore. È nell'estate più torrida di sempre da registrare l'emergenza idrica della Puglia con il lago di Occhito, che ormai non può essere più utilizzato per irrigare i campi. Nel Foggiano torna in auge il progetto di captare l'acqua del lago di Guardia Alfiera. Giovanni Di Tota. Un budello sotterraneo di una ventina di chilometri, la Puglia da tempo accarezza l'idea di prelevare l'acqua del lago di Guardia Alfiera per dirottarla nei campi coltivati a pomodoro della Capitanata. Un progetto, quello di Finocchito, che per ora resta sulla carta, ma che la grande emergenza idrica di questi giorni ha riproposto con forza sui tavoli della politica pugliese, in particolare della provincia di Foggia. L'invaso di Occhito, chiuso all'utilizzo agricolo, ha in pratica messo in ginocchio un intero sistema produttivo. Non solo il pomodoro, vero oro rosso della campagna foggiana, ma anche gli ortaggi e la frutta, messi a rischio da un'arsura tremenda che, abbinata alla siccità, sta mandando in fumo i raccolti. Il Consorzio di Bonifica di Foggia ha reso noti gli ultimi dati relativi alla capienza del lago al confine con il Molise, 45 milioni di metri cubi d'acqua rispetto ai 168 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Una vera e propria emergenza che, stando ai rumors che arrivano dalla Puglia, si vorrebbe risolvere a medio termine portando avanti la vecchia idea di prelevare l'acqua dall'invaso del liscione, un'ipotesi che soprattutto le amministrazioni locali a valle della Diga Molisana vorrebbero allontanare, considerato che l'acqua del lago riesce a malapena soddisfare il bisogno del basso Molise. Storia vecchia quella della captazione delle acque regionali, fin da quella delle sorgenti del Biferno in parte dirottate verso la Campania. Una riconsiderazione dell'intero sistema, dicono anche le organizzazioni agricole, va fatta anche in proiezione di estati sempre più roventi e di precipitazioni sempre più scarse anche d'inverno. E nel pomeriggio una squadra di vigili del fuoco di Campobasso con autopompa, modulo antincendio e autobotte intervenuta in contrada Monteverde a Vinchiaturo per un incendio che ha interessato un'importante area di bosco. All'arrivo le fiamme erano vicine a un casolare e a delle serre, ma la squadra è riuscita a bloccarle subito. Intanto sono arrivate anche due squadre antincendio boschivo della protezione civile di Baranello, una da Cerce Maggiore e un DOS a dirigere le operazioni dell'elicottero della protezione civile regionale da Campochiaro che ha preso l'acqua dal laghetto, ecco come vedete, per effettuare diversi lanci. La zona impervia, il vento e il fumo che ha interessato tutta la zona, dando anche fastidio alle case che sono alla base della montagna. Dopo due ore di lavoro e una ventina di lanci dell'elicottero, l'incendio sotto controllo e si è proceduto alla bonifica dell'intera area sul posto. per quanto di loro competenza, anche i carabinieri forestali di Boiano, una squadra di carabinieri forestali di Boiano. Vedete appunto queste immagini, le immagini dello spegnimento del fuoco con il Canadair, che è stato fondamentale proprio perché era molto difficile raggiungere la zona dell'incendio, il cuore dell'incendio. Sono passati esattamente sei anni dal terremoto in Basso Molise, 21 i centri del cratere, ma Monte Cirfone, Guglionesi e Palata, quelli più danneggiati, in qualche paese non c'è ancora la chiesa, così come il municipio, le attività vengono svolte in strutture temporanee e in alto mare anche la ricostruzione privata. Sentiamo Andrea Nasillo. Sei anni fa il terremoto in Basso Molise, i paesi più colpiti, Monte Cirfone, Guglionesi e Palata, ma l'area è interessata, comprese 21 centri. La ricostruzione tra pubblico e privato resta lenta. Negli ultimi mesi, ha detto il sindaco di Monte Cirfone, Giorgio Manest, c'è stata un'accelerazione, ma c'è ancora molto da fare. Abbiamo richiesto tecnici in supporto, ma nulla, c'è bisogno dell'impegno di tutti. Non è un problema di finanziamento, ma a quanto pare di burocrazia e di stesura di progetti. Nei paesi più danneggiati la ricostruzione complessiva non è neppure alla metà. Ad Acquaviva con le croce, Castelmauro e Monte Cirfone, c'è ancora attesa addirittura per la ristrutturazione della chiesa. Proprio a Monte Cirfone, un centro polifunzionale è stato adibito a edificio religioso. Lì il prete dice messa ormai da anni e anche il municipio attende i lavori come appalata. La situazione non è quindi tollerabile. Ci sono anche attività commerciali che aspettano il ripristino della struttura. La speranza è ora grappata perlomeno a quei cantieri aperti e ne sono diversi nei vari centri danneggiati dal sisma. Lavori, che è l'auspicio, possono essere ultimati in breve tempo. Resta però il fatto che molti sono quei cantieri da approntare ancora per l'inizio degli interventi. È ricoverato in ospedale a Isernia ma non sarebbe in pericolo di vita il giovane di 24 anni caduto dalla moto intorno alle 5 di questa mattina nei pressi del bivio di Fornelli. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, il 24enne avrebbe riportato un trauma cranico e delle profonde ferite al volto. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dall'equip medica del Veneziale di Isernia. La polizia ha identificato e denunciato grazie a testimonianze e alle videocamere il responsabile dell'imbrattamento con olio per motori dei muri delle aiuole dell'Istituto Pilla. È una persona anziana di Campobasso, intensificati i controlli congiunti con i carabinieri per il Ferragosto anche in città. Il servizio. Oggi e domani, Ferragosto, sono giornate calde sul fronte degli spostamenti per le gite, fuori porta, per il mare. Oltre che sulla costa, sono stati predisposti e attivati altri servizi congiunti tra polizie e carabinieri anche a Campobasso per controllare e prevenire reati i quali, ad esempio furti nelle case o di auto, i malviventi agiscono sapendo che magari in casa non c'è nessuno. Dalla questura fanno sapere che è stato identificato, grazie alle videocamere e alle testimonianze raccolte, il responsabile dell'imbrattamento con dell'olio per motori dei muri delle aiuole dell'Istituto Pilla di Campobasso. È una persona anziana del capoluogo, dunque esclusa la responsabilità dei giovani che frequentano la zona. Sono stati intensificati anche i servizi per controllare la cosiddetta movida cittadina, la vita notturna. Da luglio, anche in collaborazione con la Polizia Municipale del capoluogo, ci sono più pattuglie diverse a piedi nelle zone in cui ci sono iniziative di intrattenimento o richiamo per i più giovani. Anche grazie all'ordinanza comunale riguardo le somministrazioni di alcol nei locali e all'aperto, nell'ultimo mese comunque la squadra volante è intervenuta sporadicamente, in particolare per questioni di viabilità. Sempre in ambito di prevenzione, sette i fogli di via obbligatori da vari comuni della provincia adottati dal questore Cristiano Tatarelli. Lo stesso questore di Campobasso invita in questo periodo a sane forme di divertimento, con un'attenzione particolare al mondo dei giovanissimi da parte della famiglia, nell'ambito del consumo di alcol e di stupefacenti. I carabinieri di Campobasso per Ferragosto hanno predisposto, sotto la direzione del comandante provinciale Luigi Delle Grazie, controlli straordinari sul territorio, in particolare nei piccoli comuni più isolati. Ci saranno pattuglie e anche militari in abiti civili per prevenire furti e altri reati. Inoltre è stato rafforzato il controllo sulle strade per garantire una circolazione sicura. L'appello a chi rimane nei propri luoghi di residenza, detto il colonnello Delle Grazie, è quello di segnalare tramite il 112 eventuali persone o movimenti sospetti per agevolare i controlli. Il binomio popolazione arma ha concluso, così può diventare vincente e assicurare un Ferragosto sereno. Agenti in borghese del commissariato di polizia di Termoli hanno sventato una serie di potenziali furti di auto e moto, notando due giovanissimi che su monopattino si aggiravano sul lungomare termolese nei pressi di macchine e motorini lasciati in sosta dai bagnanti. Dopo essere stati controllati, uno dei due, un quindicenne di San Severo, è stato trovato in possesso di dieci chiavi adulterate e di un cacciavite utilizzati in genere per i furti. è stato denunciato. Gli attivisti del coordinamento No Pizzone 2 hanno dato vita a un flash mob tra i bagnanti sul lago di Castel San Vincenzo per esporre i motivi del No al progetto di ampliamento della centrale da parte di Enel, mobilitazione che cresce in vista della presentazione del piano definitivo il 31 agosto. Sentiamo Davide Gambardella. Si sono mescolati tra i bagnanti del lago di Castel San Vincenzo. Pettorine, striscioni e megafono alla mano hanno voluto ribadire il loro no al progetto Pizzone 2, un blitz in piena regola, quello degli attivisti del coordinamento che si batte contro l'ampliamento della centrale idroelettrica previsto da Enel. Intendono tenere alta l'attenzione in vista della presentazione del piano da parte della società idroelettrica. Entro il 31 agosto, infatti, sarà presentata al Ministero la stesura finale del progetto, ma le anime che si battono contro il piano hanno voluto esporre ai turisti le loro preoccupazioni sul futuro dell'invaso artificiale. Il progetto, a loro dire, è incompatibile con le peculiarità ambientali dell'area. Oggi volevamo raggiungere un po' chi fruisce di questo lago come turista. È una risorsa che per il turismo è estremamente importante. Pensare di limitarne la balneabilità significa veramente interrompere un ciclo positivo che si è avviato nell'economia turistica del paese. Quindi, anche limitando la considerazione a questi aspetti economici, è un progetto che assolutamente non ha senso. Una incursione è quella degli attivisti che viene condivisa anche dai bagnanti, alcuni dei quali assidui frequentatori del lago. Sicuramente verrebbe accadere non solo la bellezza del lago, che mi pare che sia il quinto o sesto lago più artificiale, più bello d'Italia, perché abbiamo anche le mainardi dietro, che sono le montagne, ma anche l'economia locale, perché io se devo venire qua e non posso soffrire del lago, non vengo più. È una manifestazione giusta che, se no, andrebbe a compromettere tutta la bellezza e la natura di questo lago. Come vedete, sta mio figlio che si sta facendo il bagno. Veniamo qua a posto a fare le vacanze da Napoli per godirci questa splendida vista, questo lago. Lutto a Campobasso per la scomparsa di Sergio Di Vico, ex dirigente dell'ASREM nel settore amministrativo. È stato a lungo impegnato anche in politica, candidato alle regionali con Costruire Democrazia. Nel basket come dirigente aveva 73 anni ed è ispirato all'ospedale Cardarelli. Lascia i figli Gianni e Paola. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio in cattedrale. Moltissimi in queste ore i messaggi di Cordoglio per la sua scomparsa. Condoglianze alla famiglia anche da parte di Telemolise. Scadranno il 26 agosto le domande per chiedere il trasporto gratuito per gli studenti diversamente abili iscritti alla scuola dell'obbligo e residenti a Campobasso. Tutte le informazioni e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del comune del capoluogo. Sentiamo Marta Martino. Scadrà il 26 agosto il termine delle domande per le famiglie che vorranno chiedere il servizio di trasporto degli studenti con disabilità a Campobasso. A ricordarlo è l'assessore alla diversabilità di Palazzo San Giorgio, Angelo Marcheggiani. Per potenziare il trasporto scolastico degli alunni, favorire il diritto allo studio e facilitare gli spostamenti nel tragitto casa-scuola, precisa l'assessore. Le famiglie troveranno sul sito del comune lo schema di avviso pubblico e le informazioni per richiedere l'attivazione del servizio per l'anno scolastico 2024-2025. La domanda, aggiunge Marcheggiani, completa della richiesta documentazione redatta su apposito modello, può essere spedita con PEC o consegnata a mano. Il servizio di trasporto gratuito per raggiungere la sede scolastica è dedicato ai ragazzi della scuola dell'infanzia primaria e scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia e in possesso di certificato che lo attesti residenti a Campobasso. Sarà organizzato sulla base di corse collettive o individuali, dal domicilio alla scuola di ciascun ragazzo che sarà accompagnato da un operatore esperto per assicurare un percorso in sicurezza e la salita e la discesa dal mezzo. Gli studenti in carrozzina potranno servirsi di pulmini attrezzati. Migliaia di persone ieri a Boiano per il Versacrum, certamente uno degli appuntamenti di maggior richiamo dell'estate. Oltre 400 figuranti da varie regioni e un'ulteriore rivistazione artistica per una rievocazione della Primavera Sacra dei Sanniti che ormai trascende i confini regionali. Ce ne parla Stefano Ricci. I vostri consacrati partiranno alla ricerca di una nuova patria, recando con sé una manciata di terra natia e una statua, simulacro del dio Ercole. Nel loro tragitto dovranno seguire il cammino di un animale sacro. Sarà un bue, da me inviato, che li condurrà alla conquista di nuove terre e alla fondazione di una nuova città. Ormai sembra non stupire più, tanto l'organizzazione ha raggiunto una capacità straordinaria per mettere in scena la Primavera Sacra dei Sanniti, Terra dove il passato è indissolubile con il presente, quella molisana, e il Ver Sacrum di Boiano vuole essere molto più di una semplice celebrazione. Un ponte tra passato e presente, un richiamo alla forza della tradizione e un invito a guardare al futuro con la stessa determinazione dei giovani sanniti di un tempo. Noi abbiamo iniziato nel lontano 1997 perché volevamo insegnare ai nostri giovani ad avere quello spirito fiero dei loro padri, quindi lo spirito sannita. Ma piano piano è diventata una passione, quindi abbiamo iniziato con piccole scene, partendo dalla immigrazione e poi siamo arrivati alle guerre italiche, e quindi diciamo dal IX-VIII secolo a.C. fino a prima di Cristo, quando siamo stati sconvitti da Silla e romanizzati. Soldati! La regione, che traccia un bilancio positivo dei flussi estivi anche grazie a manifestazioni imponenti come il Ver Sacrum, oltre 400 figuranti provenienti da diverse regioni per rappresentare i popoli italici, disegna nuove strategie di promozione. Tanti pezzi di turismo, da quello della montagna a quello della costa, e poi ci sono tanti appuntamenti. C'è una promozione di eventi culturali molto importante, sempre con spessore sempre più elevato, e questo attrae molto. Quindi c'è un po' di tutto che fa ben sperare, siamo molto attrattivi, e questo ci rende fieri e orgogliosi del lavoro che si sta portando avanti. Si è iniziato a lavorare in questa logica, in questa direzione, tant'è che discutendo con gli organizzatori di questa manifestazione, in particolare con la Presidente, abbiamo proprio cercato di mettere giù un'idea che possa portare a unire e quindi a far sì che queste manifestazioni non siano singole, non siano legate solo ed esclusivamente al territorio. L'idea è quella di allargare questa manifestazione al Beneventano, a tutto ciò che erano i popoli sannitici sparsi nel territorio italiano. Credo che sia una manifestazione bellissima, con una storia molto coinvolgente, anche per i più giovani. E adesso andiamo a Trivento, per la prima edizione del festival dedicato alla memoria di Cristiano Paparella, gremita la scalinata di San Nicola per il contest tra solisti e band che ha avuto come ospite speciale lo storico leader dei Timoria Omar Pedrini. A presiedere la giuria è stato invece l'attore John Lynch che è tornato nel suo paese d'origine dopo quasi cinque anni di assenza. Lo ha intervistato Enzo Luongo. Ha riabbracciato il suo paese in un'occasione speciale. John Lynch è tornato a Trivento per presiedere la giuria della prima edizione del festival dedicato alla memoria di Cristiano Paparella, festival organizzato dall'Associazione La Storia di Serafino in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del Comune. Lungo la scalinata di San Nicola una serata con la musica protagonista, la competizione tra solisti e band vinta alla fine dagli Havana Moon con il premio alla migliore canzone originale. Poi l'attesa esibizione dello storico leader dei Timoria Omar Pedrini, ospite speciale del festival che ha riproposto le canzoni più note del gruppo. Ai nostri microfoni John Lynch, attore, regista e scrittore, protagonista di film come Sliding Doors, nel nome del padre e fino a Best, ha parlato così del suo ritorno dopo una lunga assenza. Manco da Trivento da quasi cinque anni, soprattutto perché c'è stata di mezzo la pandemia. Quando gli amici mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di tornare per il festival in memoria di un giovane scomparso, mi è sembrata subito un'ottima idea, un bel modo per riconnetterci. Ora però non vorrei far passare tanto tempo, provvediamo a fare qui a Trivento ancora qualcosa insieme a Natale. È davvero bello tornare, è sempre bello essere qui. Essere nel paese di sua madre per Lynch significa anche riaprire il cassetto dei ricordi che lo legano a questa terra. I miei primi ricordi di Trivento risalgono a quando ero bambino. Sono venuto la prima volta con mia madre quando avevo due anni e mezzo. Ricordo quando guardavo l'Italia dall'aereo arrivando a Roma e poi qui a Trivento le giornate passate con i miei parenti. Una volta sono stato investito da un caprone e mi ha salvato mio cugino Giuseppe. L'attore che ha recitato in decine di film e serie tv di grande successo ha interpretato anche il ruolo di Massimo Troisi nel film Da domani mi alzo tardi. Gli chiediamo com'è stato calarsi nei panni di un personaggio così grande. Massimo Troisi era davvero speciale, una persona incredibile e io non sapevo nemmeno se sarei stato in grado di interpretarlo. Quel film però non è una biografia diretta, è qualcosa di immaginario. Per me è stato un grande onore. Infine un tema che ricorre ogni volta che Lynch torna in Molise e verrà prima o poi a girare un film nel suo paese d'origine. Voglio pubblicare un libro, un romanzo sulla storia di mia madre che se ne va da Trivento e inizia una nuova vita in Inghilterra negli anni 50. Il tema dell'immigrazione è un grande tema, una grande questione da affrontare. Poi forse potrei provare ad adattare il libro a un film e quindi girarlo anche a Trivento. Ma per ora è solo un'idea, non una promessa. Restiamo a Trivento per un appuntamento di Ferragosto. Domani in paese torna la festa del Cocomero. Dalle 21.30 nella piazzetta del Sorriso sarà possibile degustare il frutto dell'estate. Ci sarà come sempre anche musica da ascoltare e da ballare con l'orchestra italiana Nando e i figli delle stelle. E il 16 agosto a Nuova Cliternia, Campomarino, la Corsa delle Botti, appuntamento in piazza Madonna Grande e con raduno degli spingitori delle contrade alle 19.00 inizio gara alle 20.00. La premiazione è prevista alle 22.00. La serata sarà lietata dal gruppo musicale I Sultani dell'Oscillazione. Una rappresentazione teatrale in lingua arbrescia ha infiammato Piazza Santa Maria a Ururi. L'iniziativa ha voluto esaltare storia, tradizioni e senso di comunità. Andrea Nasillo. Una commedia teatrale speciale in Arbrescia, scenario la Piazza Santa Maria di Ururi, iniziativa cura dell'Associazione Culturale impertinente all'improvviso con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia Santa Maria delle Grazie e della Proloco. Tanta gente entusiasta. La commedia è ambientata nei giorni 12 e 13 giugno del 1956 e l'espressione fuoco di Sant'Antonio rimanda all'usanza ancora conservata da parte delle famiglie di allestire dei falò in occasione della festa del Santo di Padova. Il tema della rappresentazione teatrale è incentrato su due famiglie che pur condividendo il vicinato sono di diversa estrazione sociale e che puntualmente si sono scontrate e rincontrate in maniera scoppiettante e anche rocambolesca. Ci sono due figli da maritare. Non è andato tutto liscio. Non sono mancati colpi di scena. Questa è un'associazione che abbiamo voluto creare è proprio quella di poter viaggiare su due binari. Donare al pubblico che merita, perché proprio ci ha offerto questa carica stasera, ci ha dato una soddisfazione enorme, quindi offrirgli uno spettacolo in Arbrescia e poi magari ricorrendo ai giovani, quindi crearci un vivaio e viaggiare parallelamente con il gruppo più grande, più adulto, più maturo, magari con commedie fruibili anche fuori dai nostri confini cittadini. Lo stesso regista ha indossato i panni di uno degli interpreti per condividere le emozioni di un gruppo straordinario, eterogeneo e volenteroso, un cast di assoluto rispetto che ha valorizzato storia, tradizioni e lingua locale. Le mie prime sensazioni sono belle, positive, essendo per me una primissima volta, non avendo mai fatto nulla del genere, mi sono un po' emozionata all'inizio, infatti ho pensato, dimentico tutto, non sono più capace, però poi invece il gruppo mi ha dato forza, come sempre. Penso sia normale l'emozione, infatti anche prima di entrare in scena c'era un sacco di agitazione, ma per fortuna ho trovato appunto il cast, i miei compagni che sono assolutamente, sono stati essenziali in questo cammino, mi hanno tranquillizzata, quando avevo un vuoto mi hanno sempre aiutata, mi hanno sostenuta, quindi un grazie va sicuramente a loro perché mi hanno colmato l'emozione, mi hanno aiutato nel momento del bisogno e quindi è una cosa bellissima. La serata ha centrato un altro grande obiettivo, far stare insieme la comunità sui ricordi del passato e sulle note del buon umore. Per noi è veramente motivo di orgoglio questa nuova associazione che testimonia la vivacità culturale di questo paese, che c'è stato nel passato, c'è adesso, penso che ci sarà ovviamente anche nel futuro, bravissimi gli attori, bravissimo il regista, che hanno offerto uno spaccato di quella che è poi la realtà ururese e la realtà ururese di quel periodo. Io sono davvero contenta con la mia amministrazione ovviamente di aver patrocinato questo evento. Bene è tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale!